Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo, siamo sul videogame Tour de France 2023 per un nuovo episodio della serie sul Pro Team con la squadra dei ciclisti anonimi. Andiamo avanti con il Tour de France, dopo 4 tappe Van der Poel in maglia gialla, con 4 secondi di vantaggio su Van Aert, poi il nostro Vernon a 16 secondi, a 17 il nostro Pejo Bilbao. In vostra assenza ho giocato due tappe piatte per velocisti, con Vernon sono riuscito ad ottenere solo dei piazzamenti, niente di che, perché non è un velocista fortissimo. E dunque siamo terzi nella classifica della maglia punti per la maglia verde, ci ha sorpassato Jasper Philipsen a quota 111, noi comunque siamo in scia a quota 104. Siamo in testa alla classifica scalatori con la Tour, maglia Poix che è un nostro obiettivo così come la maglia verde, e andiamo a giocarci altre tappe di questo Tour de France. Le tappe piatte le saltiamo perché sono noiose da vedere e anche perché con Vernon non abbiamo possibilità di vincere una volata di gruppo. Tappa 5, interessante, 167 km, Polaroons, vediamo un pochino il percorso, c'è anche una buono sulla penultima salita che potrebbe essere utile, però questa in realtà è una classica tappa da fuga. Tra favoriti Roglic, Yates e Pogaciar spesso in queste tappe arriva la fuga. Noi proveremo a gettarci in fuga con la Tour, magari ci buttiamo dentro anche Vernon perché potrebbe rivelarsi utile per il discorso maglia verde, visto che c'è uno sprint intermedio, vediamo c'è anche il pericolo che Vernon venga marcato. Ok, abbiamo la Tour e Vernon che stanno anche bene, quindi proviamo assolutamente ad andare in fuga con loro. Vediamo come si sviluppa la tappa. Vernon è la maglia bianca, la Tour è la maglia qua, questo è un vantaggio perché siamo già lì davanti e possiamo andare in fuga, anche se ho paura che Jasper Phillips, se non lo vedete lì, ora che potrebbe marcarci. Ok, Vernon attacca, vediamo come si comporta Jasper Phillips, io gli vado dietro. Andiamo, andiamo, partono la Tour e Vernon, si muove anche Velasco. Per il momento sembra non reagire Jasper Phillips, il che è un po' strano perché avrebbe l'interesse a marcarci. Però vediamo, vediamo, parte Vernon, lo sacrificiamo in questa prima parte di tappa, poi magari superato lo sprint intermedio lo facciamo anche rialzare perché sarebbe inutile per lui sprecare energie. Si è mosso anche Velasco, Jasper, Ferron e altri. Ah, può andare anche al 90 Ethan, quindi non sprechiamo energie con la Tour. Arriva Velasco, arrivano altri. Devo dire che la fuga si sta formando, si sta formando. Dietro tira Cocard della Cofidis, il che è un pochino strano. Tira anche Velasco, tira Jasper, tirano un po' tutti. Un po' sta a ritmo alto, andiamo, andiamo e vediamo cosa viene fuori. No, deve tirare Vernon, la Tour deve stare a ruota ovviamente, Persevera senza limiti. Purtroppo dietro si stanno muovendo altri corridori e la fuga fa fatica a prendere spazio. Ok, 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 adesso la fuga è numerosa, di 8. Però dietro ti continua a tirare Cocard della Cofidis. Non capisco il motivo, non vedo il perché debba tirare, anche se adesso la fuga prende spazio. Collaboriamo, andiamo, andiamo avanti ovviamente. Velocemente, direi che ci vediamo allo sprint intermedio. Ok, ci avviciniamo allo sprint intermedio. Fuga composta da 14 corridori con 4 minuti di vantaggio. La situazione è perfetta per Vernon, perché vincendo lo sprint intermedio possiamo guadagnare ben 20 punti, i punti che vanno ai primi 15 all'intermedio. Dunque, il resto del gruppo dove c'è dentro Philipsen sprinterà per prendere al massimo un punto. Vincendo questo sprint intermedio, dunque, andremo nuovamente in testa alla classifica punti. Dunque, adesso sprintiamo per riprenderci la maglia verde. Quindi, situazione perfetta. Ah, occhio a questo Einhorn, però, che parte lungo. Anche Terron ci ha sorpreso. Einhorn, però, Vernon dovrebbe essere il più veloce qua dentro, anche se è una volata leggermente in salita. Prova a uscire adesso Vernon. Sì, la vinciamo. Ci portiamo a casa 20 punti. A questo punto Vernon lo teniamo a supporto di Latour fino ai piedi della salita. Magari lo facciamo tirare fino ai piedi dell'Hall Scategory. E poi si può rialzare perché il suo l'ha fatto, si è ripreso la maglia verde con questo sprint intermedio. Ottimo lavoro. Ok, un chilometro circa allo scolinamento di questo Hall Scategory che assegna ben 20 punti per la classifica a scalatori. Dunque, momento decisivo della tappa. Davanti siamo rimasti in sei. Juanpe Lopez, Latour, Sanchez, Lafè, Mollema, Zimmerman anche. Quindi questi sono i sei fuggitivi rimasti in testa alla corsa, anche se quelli appena dietro penso che rientreranno poi con la discesa. Ci avviciniamo allo sprint del Gran Premio della Montagna, Orscategory, che assegna ben 20 punti. Questo call della Sudet, occhio a Mollema che dovrebbe avere un buono spunto veloce, anche se forse la tour dovrebbe essergli superiore a 600 metri, 500 metri. Io direi di partire adesso, inutile attendere troppo perché poi rischiamo di essere sorpresi. Ok, sembra che abbiamo staccato, sì, Mollema senza problemi. Vinciamo in scioltezza, mettiamo in saccoccia ben 20 punti. Mamma mia, mi ero distratto, stavo andando diritto. Va bene. Fuga che ha circa 3 minuti e 48 sul gruppo Maglia Gialla, quindi fuga che per il momento non ha preso spazio. Evidentemente i big di classifica vogliono giocarsela e direi che ci vediamo più avanti. Adesso scendiamo giù insieme a Mollema, ma penso che rientreranno anche gli altri fuggitivi. Niente da fare per la fuga, 21 km alla conclusione, la tappa se la giocheranno i big di classifica. Attenzione perché si sta muovendo qualcuno lì davanti. E' Adam Yates che fa il forcing per Tadej Pogacar con Pio Bilbao. Devo dire che siamo un pochino al limite. Molto bene Trentin, devo dire, anche se non ha più barre rosse dello scatto. Trentin mi sta sorprendendo. Mamma mia, qui, forcing della UE. Guardate Trentin con la maglia di campione del mondo che prova, con tutte le sue forze a tenere duro. Io prendo il gel rosso perché allo scolinamento ci sono 8 secondi di abbuono che sarebbero tanta roba. Bravissimo anche Van Der Poel in maglia gialla che prova a tenere duro, anche se adesso appare un pochino piantato. Però grande prova di Van Der Poel che non vuole mollare facilmente la sua maglia gialla. Trentin prova a tenere. La Tour l'ho fatto rialzare una volta che è stato ripreso. E' inutile sprecare energie per niente, tanto vale preservare le forze per le prossime tappe, dato che il suo obiettivo è la maglia a Pua. Insiste intanto Damy Aiz. Proviamo a metterci lì sulla ruota di Wingard. Mamma mia, che fatica, che fatica stare qui. Proviamo a stare sulla ruota di Jonas Wingard. Adesso Aiz si è un attimino piantato. Sono tentato dal partire con Bilbao, però mancano ancora 900 metri. E' lunga. 8 secondi di abbuono sono tanti e fanno cola un po' a tutti. Perché 8 secondi sono sempre buoni. Si stacca Vlasov, attenzione. Vlasov in difficoltà, accelerazione di Van Aert, che ha la maglia di leader della classifica Pro Cycling. Fiammata di Wingard, ragazzi. Fiammata di Jonas Wingard. Ho paura che quei secondi di abbuono andranno a lui. Poi è bene Poole. Con Peio ho paura che non ce la faccio. Sì, sono al limite. Se esageravo ancora di più. Se avessi esagerato seguendogli avrei perso contatto. Avrei rischiato di piantarmi. Adesso tanto c'è tutta la discesa. Per provare a tornare sotto. Trentin alla fine non ce la fa. Proverà a stare a ruota di Adam Yates. Poi vediamo. Mamma mia, qui è pericoloso. È andato largo, non so chi. Wingard forse. Vanderpoil si è staccato. Prova a tenere duro, Mattie. È incredibile Vanderpoil la tappa che sta facendo oggi. Van Aert ok, me lo aspettavo. Me lo aspetto da un corridore come Van Aert. Ma da Vanderpoil no. Riparte Wingard, riparte Wingard, riparte anche Venepul. Non devo essere io quello che chiude perché Bilbao non è tra i favoriti. Dobbiamo fare una corsa di rimessa con Peio, dato che è un outsider. Facciamo fare gli altri. Facciamo fare il big a Pogaciar, a Wingard, a Roglic, a Devenepul, a tutti questi qui. Noi stiamo sulle ruote e nessuno potrà dirci assolutamente niente. Wingard che allunga, posizione aerodinamica. Stiamo sulle ruote di Van Aert. Van Aert lo vedo favorito per questo arrivo. Attenzione perché è rientrato dentro anche Vanderpoil. È rientrato Vanderpoil e quindi occhio perché in una ipotetica volata Vanderpoil e Van Aert sono i favoriti. Guardatelo Mattia che difende la maglia gialla. Ok, stiamo sulle ruote noi con Peio. Stiamo sulle ruote e andiamo avanti. Qui la discesa si fa anche abbastanza tecnica. Mamma mia. Bella tappa comunque, davvero una bella tappa. Bardet, anche lui qui davanti. Evenepoli più forti ci sono tutti. C'è anche Damiano Caruso, quindi anche un pochino di Italia. Proviamo ad avvantaggiarci in discesa con Peio, che teoricamente Bilbao è un ottimo discesista, se non uno dei migliori sulla piazza. Quindi possiamo provare a fare qualcosa in discesa con Peio. Proviamoci, dato che la discesa sembra tecnica. Vediamo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ma abbiamo tutti attaccati alle nostre ruote, quindi non riusciamo a fare la differenza. Qui siamo andati anche sull'erba, quindi niente, nulla di fatto. Nulla di fatto, ma adesso la vedo anche difficile andare via. Parte Caruso, parte Caruso. Qua partono un po' tutti. Anche Martinez. L'importante comunque era restare qui davanti con Peio, quindi primo obiettivo completato. Adesso vediamo se in qualche modo si riesce a fare qualcosa in più. Come vincere la tappa, anche se è comunque qualcosa di molto difficile. 5 km alla conclusione, si muovono un po' tutti. C'è anarchia. Vediamo, secondo me adesso ripartirà qualcun altro. Van Aert va lì davanti. Riparte Pogaciar, riparte Pogaciar, riparte Venepul. Stiamo qui sulle ruote. E Pogaciar insiste. Guardate da dei che insiste. Noi sempre sulla ruota giusta, sulla ruota di Van Aert, anche perché siamo, devo dire, abbastanza al limite con il povero Peio Bilbao. Anche questo tentativo di allungo è stato annullato, ma secondo me ripartirà nuovamente qualcun altro. Io vorrei che ripartisse qualcun altro adesso. Venisse chiuso. Ecco, infatti, eccolo l'allungo di Venepul. Ora, quando chiuderanno questo tentativo, partiamo o no in contropiede con Peio. Però no, ancora troppo lunghi, troppo, troppo lunghi. Eccolo Godù, eccolo Godù. Eccolo Godù, parte Venepul. Ok, sono partiti lunghi. Ok, ok, ok. Adesso, secondo me è il momento di partire. Andiamo sulla ruota di Pogaciar, andiamo sulla ruota dita di Pogaciar con Peio Bilbao, ma siamo al limite, siamo al limite. Godù si è piantato, ma si pianta anche Peio. Arriva Vanderpoel a doppia velocità. Comunque un bel secondo posto con Peio Bilbao, Van Aert, non ne aveva evidentemente. Ci portiamo a casa un bel secondo posto che porta ovviamente punti nella classifica pro cycling a squadre, ma ci dà anche ben sei secondi di abbuono. Bene così. Stravince la tappa a Mattie van der Poel che mantiene così anche la maglia gialla. Van der Poel che si era staccato sulla salita finale, ma è poi riuscito a rientrare nella discesa. Secondo il nostro Peio Bilbao che guadagna anche sei secondi di abbuono. Terzo Roglic, da sottolineare la bella prestazione di Trentin, ventesimo non lontano dal gruppo di testa. Va bene, bravo, anche Trentin. Classifica generale che vede ancora Van der Poel in maglia gialla, ma prima o poi cederà sulle grandi montagne. Secondo Van Aert. Terzo il nostro Bilbao che per il momento tra gli uomini di classifica è il primo con Pogaciar però lì che ci bracca. Ha tre secondi, però per il momento dopo la prima tappa di montagna Bilbao è lì davanti con i migliori Trentin, ventiduesimo addirittura. Bravissimo, incredibile. Classifica scalatori. Latour ha già 37 punti e dopo cinque tappe avere 37 punti nella classifica scalatori è tanta roba. Classifica punti maglia verde, torna in testa Ethan Vernon, però qui secondo me sarà molto combattuta con Jasper Philipsen e sarà una lotta dura. Maglia bianca, Pogaciar, manco a dirlo, la lotta sarà tra lui e Renque Venepul. Classifica squadre, qui non possiamo competere con Jumbovisma e questi squadroni. Combattività, Latour ovviamente andando in fuga è in testa anche a questa classifica. Nella classifica Pro Cycling squadre il team dei ciclisti anonimi è ancora in testa. Ora andiamo a giocarci anche la sesta tappa di questo Tour de France, che è un'altra tappa di montagna, è che tappa un tappone. Andiamo a vedere i favoriti che presumo saranno sempre gli stessi. Qui sicuramente, certamente, Van der Poel alzerà bandiera bianca, arrivi in salita. Favoriti, manco a dirlo, Pogaciar, Wingegaard, Roglic, sempre i soliti. Tanti punti per la classifica scalatori, dunque dovremo gettarci nuovamente in fuga con Latour. Speriamo di avere un Latour con una buona condizione. Questa è una delle tappe decisive già per la classifica generale, è forse la prima tappa che andrà ad incidere davvero sulla classifica generale. La quinta è stato un assaggio, è stato un antipasto del Tour, adesso è il vero primo scontro tra i Big. Bilbao non sta bene, quindi male. Dovremo stringere i denti oggi e limitare i danni. Abbiamo un Latour con una super condizione e anche Vernon non sta male, quindi proverei nuovamente ad andare in fuga con Vernon, perché è in questa età che dobbiamo guadagnare punti sui velocisti, gettandoci in fuga e vincendo gli sprint intermedi. Proviamo a vincerlo un po' in stile Sagan, come faceva Peter Sagan qualche anno fa quando vinceva a ripetizione la maglia verde, andava spesso in fuga per vincere gli sprint intermedi. Quindi Vernon attacca e ovviamente andiamo in fuga anche con Latour che ha la condizione super e in caso la fuga venga lasciata andare potrebbe giocarsi le sue carte. Ok, bravo Vernon che adesso tiri al 100%, provo in qualche modo a portarci avanti. Si muove Vuz che è un classico corridore da fughe, ovvero quelle fughe però nelle tappe dure di montagna. Vuz è adatto. Ok, fuga che sembra possa andare, si la fuga sembra prendere velocemente spazio, bene così perché Vernon potrà vincere nuovamente lo sprint intermedio e portare a casa altri 20 punti fondamentali. Inutile che vi faccia vedere lo sprint intermedio perché tanto con questi scalatori, con Vernon lo vinciamo facile, dunque direi che ci vediamo più avanti in un eventuale momento clou della tappa. Inizia la salita finale, il nostro Latour è lì davanti insieme a Fulsang, Vuz e altri fuggitivi, però attenzione, quel 4,21 che vedete lì in alto a sinistra sul gruppo Maglia Gialla è in realtà il vantaggio su Vanderpoel che si è staccato sulla penultima salita che era il Tour Malet. In realtà abbiamo 1,40 minuto circa di vantaggio sul gruppo dei Big di classifica in cui dentro c'è il nostro Bilbao. molto male, ha beccato la giornata, no, non è in condizione, quindi la vedo dura per lui. Intanto con Latour proviamo a star dietro a quelli lì perché Latour sta bene, poteva vincere la tappa oggi con la condizione che si ritrova, il problema è che anche oggi i Big di classifica non fanno sconti. Bilbao per il momento è nel gruppo degli uomini di classifica, ma ho paura che andrà a prendere una bella imbarcata perché siamo andati a beccare la condizione, no, proprio questa tappa, una tappa decisiva. Intanto Woods scatta, io provo a collaborare con Shampoos N e questi altri corridori qui, e no ragazzi per Bilbao oggi sarà una disdetta, proviamo a fare la tappa con Latour, l'unica cosa che possiamo fare perché Bilbao lo vedo messo molto molto male, ha più o meno la stessa energia di Latour. Si è mosso Godou, Godou all'attacco, attenzione, strano da vedere, David Godou che si muove all'attacco, e a questo punto aspetterei il francese, quei 6 minuti di vantaggio in realtà ingannano perché sono 6 minuti su Van der Poel che ormai, poverino, è un Van der Poel totalmente alla deriva. Vediamo dove, vabbè, Vernon è indietro, Madan, eh, Madan oggi rischia di finire fuori tempo massimo, ma c'era anche da aspettarselo. Andiamo avanti, Godou sta arrivando, eccolo, ci accogliamo a David Godou che attacca, però l'attacco di Godou mi sembra un pochino di suicidio perché è attaccato nel tratto facile della salita con tutto il gruppo dietro, attacco che lo vedo velleitario, anzi direi improduttivo perché, anzi, controproduttivo perché poi quando attaccheranno, sgaseranno gli uomini di classifica, lui rimarrà indietro. Guardate Bilbao in crisi, Bilbao non ha praticamente più energia, ancora mancano 6 km, quindi il Pompeio oggi prende un'imbarcata clamorosa, uscirà di classifica, probabilmente dovremo poi inventarci qualcosa con le fughe. Bravo comunque Latour che ha fatto, sta facendo il suo. Male Bilbao, Male Bilbao che oggi si beccherà una valanga di minuti, stiamo a ruota, saremo inevitabilmente costretti ad andare in fuga per cercare di recuperare il tempo perso. Io quasi quasi con Latour mi rialzo e provo a dare una mano al povero Peio Bilbao per quel che posso fare, mancano ancora tanti chilometri, vediamo dove è Peio. e Peio è parecchio indietro, non è neanche qui, è in questo gruppettino penso Peio Bilbao, ci siamo rialzati. Mamma mia che imbarcata, proprio la giornata no, nel tappone durissimo con il Tourmalet e poi la salita finale di 15 km, ci vuole anche, serve anche fortuna per fare una bella classifica. Ora, Bilbao, sì Bilbao è qui però lo vedo davvero al limite. Eccolo Peio che prova a tenere le ruote di questo gruppettino ma la vedo molto male. Prova a dire alla Tour di tirare al 50%, vediamo se Bilbao riesce a tenere le ruote, anche il 60% magari. però qua sta tirando Hirt, non so per chi, vediamo se la Tour, se questa andatura è sopportabile per Bilbao, per quanto pare sì, quindi possiamo anche accelerare un pochino, fare un 70%. Non sto sbagliando, con la Tour devo fare il 70%, con Peio che soffre però dovrebbe farcela ad arrivare al traguardo, sì. Ok, ce l'abbiamo fatta, mamma mia che fatica. Bene per quanto riguarda la maglia qua con la Tour, bene per la maglia verde con Vernon, ma un disastro, un disastro per Peio Bilbao. E a questo punto vi faccio vedere anche le premiazioni, così vedete la Tour e Vernon che indossano le rispettive maglie. La tappa la vince Pogaciar, quindi Pogaciar che va subito a prendersi la maglia gialla, lo vedete in bontà dei. Intanto ecco Vernon con la maglia verde, a sorpresa, obiettivo per il nostro team. Eccolo Ethan Vernon, e occhio anche a Latour che indossa la maglia qua. Dunque due maglie per la squadra dei ciclisti anonimi, eccolo Latour. Dunque vince la tappa tra dei Pogaciar davanti a Remque Venepoel e Jonas Wiengegaard, e loro tre hanno fatto la differenza e poi se la sono giocata in volato in uno sprint ristretto. Imbarcata per il nostro Bilbao che si becca oltre sei minuti, però abbiamo beccato la giornata no, e non ci voleva la giornata no, proprio in una tappa decisiva. Finisce anzitempo l'avventura del povero Madan che va fuori tempo massimo insieme a Bier, che dura soltanto sei tappe, l'avventura al Tour de France del corridore del Bahrain, del mitico principe del Bahrain. Purtroppo è fuori tempo massimo e dunque viene eliminato dalla Grand Boucle. Classifica generale che vede Bilbao scivolare in dodicesima posizione, si mette male per il nostro obiettivo top 10 perché siamo a quattro minuti adesso dalla top 10, anche se siamo ancora a dodicesimi. Però ragazzi, Bilbao non era in condizione, l'unico vedete, non avere la condizione, anche un po' strano perché noi a inizio stagione nella programmazione dell'anno abbiamo impostato il picco di forma proprio per questo Tour de France e siamo andati a beccarci, la condizione no, proprio in una tappa durissima e decisiva, speriamo di migliorare per le prossime tappe, sicuramente ci inventeremo qualcosa con Bilbao, ci buttiamo in qualche fuga per provare a recuperare, proveremo a inventarci qualcosa. Classifica scalatori, la Tour è a quota 69, 69 punti dopo soltanto sei tappe e tanta roba. Il mio principale avversario, secondo me, è Pogacar o Wingard o Evenepul, non mi fanno paura gli altri corridori che si buttano in fuga, ma ho più paura per Pogacar perché in questo Tour de France per il momento non sono arrivate fughe, i big di classifica chiudono tutte le fughe, si giocano la tappa e quindi vincendo sulla salita finale prendono inevitabilmente punti anche per la classifica scalatoria che perciò rappresentano una minaccia per il nostro Latour, però abbiamo 69 punti, tanti punti di vantaggio, abbiamo già messo in chiaro le cose, vogliamo la maglia Poix, e quindi per questa classifica siamo messi bene, siamo in testa anche alla classifica punti con Vernon a quota 144, il nostro principale avversario è Philipsen a quota 112 punti, nelle prossime tappe ci saranno frazioni per velocisti, non ve le farò vedere perché sono monotone, con Vernon possiamo al massimo ambire a un quinto, un sesto posto, però dobbiamo farlo perché sono punti, e poi ci buttiamo in fuga nelle tappe di montagna o quelle intermedie e lì proviamo a compensare i punti persi nelle tappe di volata, sperando che Philipsen vinca meno e vincano un pochino Iwan, Jakobsen in questo modo gli tolgono punti, classifica giovani non abbiamo nessuno, classifica squadre non possiamo competere, classifica della compatibilità, Latour andando in fuga è in testa come chilometri vatti e penso che in questa classifica ce la porteremo a casa senza problemi, classifica pro cycling individuale, dopo 6 it up Van Aert è primo, vabbè, classifica squadre, i ciclisti anonimi sono ancora la prima squadra al mondo braccati però dalla Jumbo Visma. Bene, termina questo video, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, potete anche abbonarvi, gli abbonati con i loro commenti possono indicare i corridori da andare a prendere per la prossima stagione, io vi saluto e vi do appuntamento sempre qui sul canale del ciclista anonimo per altri video come sempre dedicati al mondo del ciclismo e per continuare questa serie sul Pro Team. Ciao ragazzi!